NVIDIA Optics Denoiser e il DLSS rappresentano una vera rivoluzione basata sull'intelligenza artificiale per i videogiochi. Ma questo vale anche per la grafica 3D professionale. Inizialmente guardati con scetticismo per la loro tendenza a perdere dettagli e ammorbidire le immagini, oggi gli algoritmi di denoising e upscale sono ampiamente usati anche nell'industria cinematografica. Optics Denoiser può accelerare il rendering mantenendo alta la qualità visiva. Il denoiser è utilissimo in tutta la fase di progettazione, ma anche nel rendering finale. Consente di accelerare i calcoli in modo drastico, chiudendo un occhio sugli artefatti che può introdurre, ma che un bravo grafico saprà eliminare bilanciando la qualità dell'immagine prima dell'applicazione di Optics Denoiser. Abbiamo realizzato appositamente 3 scene per effettuare i nostri test, cercando di mixare varie condizioni di luce, shader e strutture poligonali. In questo primo video si nota come il rumore venga eliminato completamente, introducendo però qualche piccolo difetto di troppo nella caduta della luce, molto evidente sulle piccole sfere verti. Nel secondo video si può notare l'effetto Optics Denoiser, partendo da un'immagine di qualità bassa con molto rumore video. L'algoritmo fa il suo dovere azzerando il rumore, perdendo però molti dettagli. In questo terzo test siamo partiti da un'immagine di qualità molto superiore. Il denoiser rimuove il rumore senza aggiungere artefatti significativi. Qualche dettaglio si perde, ma in animazione non si noterà. Appare evidente che sta al grafico trovare il giusto compromesso per scegliere la qualità di partenza su cui applicare il denoiser Optics, in modo da introdurre meno artefatti possibili. Una delle nostre scene richiede fino a 10 minuti di calcolo con una RTX 4070, senza peraltro riuscire ad eliminare completamente il rumore video. Con il denoiser bastano poco più di due minuti per un'immagine pulita con una perdita di dettaglio quasi impercettibile. Sebbene non infallibile, il denoiser è utile per rimuovere gli ultimi residui di rumore e risparmiare ore di rendering nell'animazione finale. NVIDIA DLSS, la nato inizialmente come upscaler super avanzato basato su machine learning e intelligenza artificiale, il DLSS è ulteriormente evoluto, implementando vari tipi di denoiser, tra cui Ray Reconstruction. Assolutamente fondamentali per migliorare la qualità delle scene nei videogiochi in cui si utilizzano algoritmi di illuminazione avanzata. Tra le altre cose è in grado di generare fotogrammi aggiuntivi tramite frame generation, aumentando il framerate. Anche il DLSS sta muovendo i primi passi nel mondo della grafica professionale. Utilizzando come test la versione real-time di Redshift, possiamo accedere a una pre-visualizzazione estremamente veloce ed efficace del lavoro che si avvantaggia persino del DLSS. In questo contesto si può lavorare su due parametri, ovvero l'intensità del denoiser, che riduce il rumore video a discapito di una forte perdita di dettaglio, e l'aggressività dell'AppScaler, che permette di renderizzare a una risoluzione più bassa rispetto a quella nativa. Lo scopo di questi strumenti non è quello di renderizzare un'immagine finale, ma di ottenere un'anteprima interattiva prima di arrivare al rendering finale, cosa che in alcune situazioni può diventare molto utile. Nel video potete osservare chiaramente la velocità di rendering. I compromessi in termini di resa sono evidenti sul singolo fotogramma, ma basta aspettare una manciata di secondi per vedere apparire un'immagine abbastanza definita e pulita. Questo tipo di accelerazione permette di vedere e interagire quasi in tempo reale, con scene 3D molto complesse dal punto di vista di shader e illuminazione. Se i denoiser sono strumenti maturi, praticamente indispensabili per chi fa grafica 3D grazie ad un algoritmo più che affidabile, il DLSS, almeno nell'implementazione di Redshift, è una tecnologia che mostra delle potenzialità ma che ha ancora tanta strada da fare, a differenza della sua applicazione in ambito gaming, dove ormai è diventato uno strumento indispensabile. Se vi è piaciuto questo approfondimento sulla grafica 3D professionale, lasciateci un like e fatecelo sapere nei commenti.